Cofi! Cate, che c'è? E non ti toccare davanti a tutti! Allora, dobbiamo capire una cosa, tu non sei mio padre, non sei amnate... E che... è fredda! Ma non è fredda, Cate, sei la salita strana! Senti, allora, parliamone, tu sei italiana, appunto, cioè, c'è caldo, sole, io so danesia, sono io che vengo dal freddo. Vieni dal freddo? Certo. Ah, mamma mia, mamma mia, questa non capisce niente. Senti, parliamo di cose serie, piuttosto. Ah, sì, allora, che vuoi? Che ti ha detto Maria riguardo quella cosina lì? Cioè, quando sarà all'esterno? All'esterno, secondo me, dovrebbe essere il 3 settembre. Ah, sì? Sì, il 3 settembre, sai, adesso Maria c'è una nuova rete, si chiama Globetheater. Ma dai! Sì, ce l'ha capito. Un nome spaziale! Globetheater! Ma che ci vuole, Sky? No, se Sky no. No? No. Beh, allora non erete di sfigati, no? No? No, no, io devo andare una cosa a pay per view. Ma tutti ci pagheranno per svidarci il 3 settembre! Il 3 settembre! Ciao! 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 Grazie a tutti.